Si attende il segnale. Partiti. Dall'interno Shur Luigi fa partenza anche Speed Queen insieme a Clever Band. E allora Clever Band che va ad accompagnare Shur Luigi all'esterno di tutti. Prova a muovere anche il Ruforum Dream, per l'interno c'è Lady Oratorio. L'andatura è tutt'altro che vivace in questa fase iniziale con Shur Luigi che galoppando a 3-4 metri dallo steccato conduce il gruppetto a un'andatura blanda nei confronti di Clever Band che ha al suo interno Lady Oratorio. Poi Thomas Pai con all'esterno Speed Queen, all'esterno di tutti Galoppa e Ruforum Dream che lascia in coda all'interno Pacific Martina. Così a poco più di un giro dalla conclusione davanti Shur Luigi con il Paraocchi nei confronti di Clever Band che ha più all'esterno ora Ruforum Dream. All'interno c'è la grigia Lady Oratorio che capeggia l'altro gruppetto insieme a Thomas Pai che ha all'interno Pacific Martina in coda all'esterno e scivolata. Speed Queen. Così al completamento anche della seconda piegata non avvengono variazioni con Shur Luigi che ha portato a spasso la compagnia fino a questo punto. Clever Band che fa sempre lui da elastico con il gruppetto con vicino all'esterno e Ruforum Dream di dentro Lady Oratorio. Si inizia ad accelerare con Shur Luigi che prova allora a questo punto a scappare da Clever Band al Lady Oratorio che si fa sotto. Poi Thomas Pai che prova ad intervenire e Ruforum Dream poi Pacific Martina e Speed Queen. Clever Band si prepara all'esterno di Shur Luigi. Poi Thomas Pai e Lady Oratorio che provano a recuperare con quest'ultima per linea interna. Con Clever Band che attacca Shur Luigi. Di dentro c'è Lady Oratorio. Poi Thomas Pai e allora Clever Band che prova a passare nei confronti di Lady Oratorio. Shur Luigi. Clever Band che una volta passato va a cercare lo steccato. Lady Oratorio che si butta al suo inseguimento. Poi Shur Luigi. Clever Band che è in fuga da Lady Oratorio. Clever Band. Clever Band. Davanti a Lady Oratorio e Shur Luigi. Nonostante la brutta caduta di martedì scorso torna in sella e torna al successo. Luca Magnezzi. Clever Band. Maurizione Manili. I colori di Paola Masiello. Facile alla meta. Clever Band. Su Lady Oratorio e Shur Luigi. 2, 3, 4. L'arrivo numerico e ufficioso.